Oh no 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 non hanno conciato i piedi no 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 via 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 porca mia No dove è la safe? Dove è la safe? Dilla 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 na fanga Tu vuole rendere un po' in din paccia Ehi tu, non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video E dopo che hai fatto questo, iniziamo col video Eeeh, che sta a tutti ragazzi? A questo video sono Credox Oggi siamo qui su un nuovissimo video su Fortnite Per provare la nuovissima modalità Rush Che è una figata a quanto ho capito E volevo portarvelo appunto sul canale Ora vi spiegherò come funziona Ma prima, sigla Che poi il testo in Italia Nord A scattomaria è bruttissimo Cioè suona proprio malissimo Comunque, in cosa consiste questa modalità? Praticamente siamo con una squadra di 4 giocatori Tra cui anche noi O io in questo caso E praticamente atterriamo in un punto X della mappa In questo caso siamo atterrati vicino al palmetto Ancora mi ha caricato la text Ora che siamo arrivati qua Praticamente come si svolgerà la modalità? Ci stanno 3 round In questi 3 round noi dobbiamo uccidere più zombie possibili Ovviamente, però prima dobbiamo trovare le armi Perché senza armi è un po' difficile Ok, un'arma Seppur scarsa, l'abbiamo trovata Quindi l'obiettivo della malità è sopravvivere a queste 3 orde di zombie E in tutto questo poi alla fine dobbiamo anche sconfiggere il boss finale Che è praticamente un mostro enorme Che ha un sacco di vita Non si sa come ucciderlo Però nel frattempo bisogna ucciderlo Alla fine se riusciamo a distruggere il boss Prima che lui ci distrugga Oppure che la safe ci uccida Perché ovviamente la safe poi si andrà a rimpiacciare sempre di più Avremo vinto noi Se invece il boss ci ucciderà prima Eh, abbiamo perso Quindi abbiamo un minuto e quindici per farmare Io vorrei ovviamente questa parte me la tagliola Perché no, io sa palla perché Cioè, io volevo vedere le persone a farmare Ecco il momento Eccolo per parte della battaglia 3, 2, 1 Ecco i zombie Che questa modalità è bellissima È un casino totale ragazzi Perché sembra facile Perché dice vabbè spari Però il problema è che il caricatore si sorrisce Questi lanciano bombe Al più non posso E quindi è un po' casino Ma morita Boom, 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 boom Minchia vi faccio Ammazzo male Camorria Camorria Vabbè seccatura Vabbè seccatura Vabbè Lo prendo il moltiplicatore Mi do un sacco di punti E anche Un'arma Buona Ottima questa Dammi 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 qua Grandissimo Quest'arma l'hanno aggiunta da poco Beh ovviamente per bisogna vedere Quanto poco Perché io non gioco a fortemente Da quando avevo già aperto il canale Però restai Oh mamma mia Morite Che è un bel pompa Boom Oh ma io ti la prendo a pompe In faccia Oh hai capito Hai capito Dai venite Venite qui sopra Venite venite Bravi Bravi dai Tanto non potete Perché non potete Deve saltare Ah sfigati Sfigati Mamma Uo Una mitretta blu Oh Ma l'hanno introdotto Perché non la vedo da Chi Oh ma Oh mario Oh mario Oh mario Oh mario E vai Chi è il killer dei zombie Chi è il killer dei zombie Ammazzo Tadadadadadadadadadadadadadadam Tadadadadadadadadam Vai Anche a te vai Ah non ho completato A posto Io ricarico tutta l'anno Perché Se no è una cosa infattibile 5, 4, 3, 2, 1 Boom! Dove sono? Mi lo ha trotto fino avanti con l'accanto Che culo E fino avanti in questa modalità ti può stare utile Vai, 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 via, via, via Quanti punti, quanti punti, quanti punti Quanti punti Vai, kill, kill No, no, si è fenomeno Ti rubo le kill, poi ti viene da Boom! La Thompson, no, la Thompson Ah, posso ragazzi, ho vinto, ho vinto Via, via, via Maria, la Thompson l'adoro ragazzi In questa modalità se la Thompson blu vince Ma con l'fk Ma che fa? Ci penso io ragazzi, faccio io un po' di pulizia Perché vedo un po' di zombie Vedo un po' la fastidia, perché ci sono io Il pulitore di zombie Vai, 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 vai Via, 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 mamma mia Ok, round 2 Ma, sono spavolati tutti O niente, alla fine dei 3 round Se riusciamo a vincere sconfiggendo il boss Poi alla fine, come poter vedere Alla destra ci stanno praticamente i punti E io sono top 3 Ah, cioè mi tolgo pochettino da al secondo Quindi potrei anche arrivare secondo Primo non credo perché quello ha 21.000 punti E arriva, c'ha 21.000 punti Manco a pagamento Ecco i zombie Oh Maria Che cacchio Che cacchio me l'ho fatto Ma, ma da quando in qua Insomma mi congelano i piedi Fatemi capire Ah, vai, sì, dai La godura è ammazzarvi tutti No, no, me l'ho congelato i piedi Ah, ma è lui Ma vaffanbagno Ah, via, 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 via Oh, ma il caricatore, il caricatore, il caricatore, il caricatore Ma non ne, no, 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 no Ok, a posto Ok, sono secondo A posto, grande Ricarica, ricarica, ricarica Vai 617 Ma vai via, sono bruttissimo Dai, sono tutti brutti 5 5 in testa non si può sentire vabbè spero ragazzi ricarico la thompson ok vabbè basta che questi effetti sonori che non piacciono a nessuno no 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 hey zombie questo è bello fermo lì fermo lì boom ok round 2 completato ma pensavo che ho già il terzo pensavo e vai guardiamo poi l'effetto sonore metto un sacco d'ansia perchè no ma perchè ma perchè ma sei stupido io la qua alto cioè faccio il devasto qua ragazzi boom fatemi prendere la slap per favore ok sono tutto vostro con la thompson manana 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 mamma mia quanto danno via 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 nooo me l'ho concierto i piedi e poi ragazzi quanto soddisfacente questa malavita ma che distrugge un sacco di zombie con un sacco di puncetti oh no 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 Non l'ho cocciato i piedi, nonò 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 nò nonò ora via 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 Perché visano dove la safe dove la safe di laggiaralar Llela dir la dill tab Kangh Ebbene Disso pompare in America bombe di testo pompa in faccia la ragazza un volo è come un vero vorrei dire non parlo con voi quello come per la mia squadra ma dobbiamo uccidere il boss sennò accumuliamo male stato dato tutto il caricatore faccio tutto il caricatore faccio tutto il caricatore faccio via 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 o maria cosa dietro cosa dietro o mamma mia faccio minchia divento prima ragazzi divento primo mamma mia o maria chi ha trovato l'rpg ma perchè segue a me questo cioè no l'ho capito no 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 maria quanto danno fa si vabbè io sempre devo ricaricare non c'ho no no ragazzi sono morto ragazzi sono morto sono morto sono morto sono morto tantissimo e crepate tutti anche tu che quello non credo a pagamento oppure si che dite ragazzi sono pago amore sono munizioni sono munizioni sono munizioni uccidetelo sto schifo metà vita ancora oh maria dai ragazzi ce la facciamo dai che ce la facciamo sto portando sfighe ma non mi interessa dai 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 no no eh minchia ho portato sfighe no 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 ragazzi è strettissimo devo distruggerlo dove cacchio è sto mostro ma che cacchio fa dai 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 raga per pochissimo la sempre sarà andata già 26.805 secondo sono arrivato ottimo complimenti complimenti veramente cioè ragazzi è stata una sudata cioè è stato veramente ok ragazzi questa è la modalità la lascia di fortnite spero vi sia piaciuta iscrivetevi al canale se non sono ancora iscritti a un paio dei possibili lasciate un like un commento qua stavano e facciamo un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao